Ciao ragazzi, agosto si sta avvicinando e con esso le inevitabili vacanze, ma noi non vogliamo perdere tutto il lavoro fatto con ore e ore di faticose lezioni, per cui dobbiamo continuare un pochino a esercitarci e insieme vediamo cosa possiamo fare. Ciao ragazzi, sono Luisa Signorelli e oggi voglio darvi qualche piccola idea per mantenervi in forma anche ad agosto, fare una sorta di lezione allenamento che potrete fare anche a casa appoggiati a una sedia, appoggiati a un armadio oppure anche appoggiati a niente se avete un buon asse, un buon equilibrio, in modo che possiate arrivare a settembre pronti per iniziare una nuova stagione ed essere informissima. La prima cosa che vi consiglio di fare quando vi alzate la mattina dal letto è di tirare la muscolatura posteriore delle gambe, della schiera, ma soprattutto i tendini di Achille. Vedete, in questo modo fate molta attenzione ad avere i fianchi allineati, quindi tirate indietro il fianco della gamba in avanti, la schiena appunto svetta verso l'alto, cercate di spingere il tallone della gamba dietro al pavimento, ma è tutto diciamo una tirata di tutto il corpo, tallone, polpaccio, glutei, schiena, testa, vedete anche così a 90 gradi e a fare lavorare la schiena, quindi curvate la schiena come se fosse un gatto. Lo stesso esercizio che facciamo per terra lo possiamo fare così, potete appaggiarvi tranquillamente a un armadio, un tavolo, questo è un esercizio molto semplice ma molto benefico soprattutto la mattina e poi andate giù, schiena giù, testa giù e poi rivenete su. E naturalmente potete tirare la parte davanti del quadricipite appunto, quindi tirate bene il piede, il tallone dovrebbe toccare il gluteo e con una gamba e con l'altra fate questo bel tiramento che benefica anche per le ginocchia e quindi tirate bene la parte davanti, bacino verticale, schiena come sempre svetta verso l'alto, state qualche secondo, magari contate fino a 8 e poi andate giù, vi accucciate diciamo un po' come dico io a ovetto e cercate di smollare le caviglie, la punta della testa, guarda e tocca le ginocchia se è possibile e poi tirate sempre la parte posteriore delle gambe. Sicuramente una cosa che dovete assolutamente fare, questo è un ordine, è lavorare i piedi, sapete quanto io sia fissata per i piedi perché è una delle prime cose che si perdono, però potete continuare comunque anche se è stata a casa, anche se prima di andare al mare a fare questo lavoro anche al mare, perché no, fare questo lavoro con le dita dei piedi, vedete alternando un po' con ginocchia tesa, un po' ginocchia piegate e poi dita, 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 come ben sapete io qua la faccio vedere con le scarpe, potete farlo anche a piedi nudi o con i calzini affinché le dita diciamo mantengano questa elasticità, questa diciamo mobilità che abbiamo lavorato e poi per i più esperti provate ad andare sulle punte senza punte e qui bisogna avere le dita molto allenate nonché bacino e schiena forti, tutto il corpo sale e spinge del pavimento, sembra impossibile ma chi è allenato sa che lo può fare, chiaramente un po' vi reggerete alla sbarra, al mobile ma non in modo eccessivo e poi ripetete tutto quanto con le gambe, i piedi, il bacino under or, quindi potete fare la stessa sequenza più o meno, alternate una gamba e un'altra però veramente è importante farlo nelle due posizioni, questo è importante perché farlo soltanto parallelo si vi può aiutare però noi danzatori lavoriamo in under or, quindi non ce lo dobbiamo dimenticare questo under or che sapete che viene dalle anche e lavorate bene ecco mi raccomando non solo l'alluce ma tutte le cinque dita, anche il mignolo che dovete far sì che tocchi il pavimento, cercate di avere queste dita aperte ecco quindi ben venga a farlo anche con i calzini o a piedi nudi e poi la stessa cosa in under or, cerchiamo di andare sulle punte anche se non abbiamo le scarpette da punta, cerchiamo di in realtà fortificare il più possibile queste famose dita e poi naturalmente dovete cercare di lavorare un po' al pavimento, quindi lavorare la rotazione, vedete apro e chiudo, stanno in avanti i mignoli a terra quando apro e poi circonduzioni ecco con i piedi ma in realtà apro bene il bacino e sono le due gambe che si ruotano e i piedi sono diciamo una conseguenza e poi lavoro le anche, la libertà delle anche, vedete apro e chiudo in questo modo, chi mi conosce già conosce un po' questi esercizi ma è sempre bene ribadirli, rifarli, ripercorrirli, riscoprirli insieme in diverse sequenze perché no, mai fare sempre le stesse cose, sempre diciamo cambiare affinché il corpo non si abitui a una sola modalità e poi ecco vedete ho fatto sia la sequenza in ande or sia la sequenza all'incontrario cioè partendo in ande or e poi andando in parallelo e poi tutte e due le gambe come se facessi quasi un gran plie mi raccomando e talloni in avanti quando siete in ande or talloni avantissimi, c'è chi andrà più giù, c'è chi andrà meno giù, non importa ma voglio continuare a lavorare le mie anche il più possibile e la mobilità delle caviglie, la schiena è rilassata, respiro è importantissimo, aprite le scapole, allungate il collo e poi fate un check della vostra rotazione, io non sono molto ruotata, voi lo sapete però lavoro sempre, cerco di mantenere ed incrementare quello che ho, chiaramente la mattina quando mi sveglio sono sicuramente molto molto più chiusa, man mano come tutti durante la giornata ci si apre e ogni giorno dobbiamo ricominciare ma sempre con lo stesso desiderio, sempre con la stessa voglia di superare se stessi, i propri limiti, i propri difetti e fare dei propri difetti i nostri punti di forza perché è questo che dovete fare, i vostri difetti difetti devono diventare i vostri punti di forza e lo potete fare, vedete qui lavoriamo il basso gamba, lavoriamo la tenuta della rotazione, lavoriamo veramente, sentiamo la muscolatura, potete alternare questa sorta di développe enveloppe e poi anche vedete così in chiusura quindi allungo e sento anche tiro questa parte della muscolatura, vedete non soltanto sempre in andeore ma sempre devo alternare, devo far muovere le mie anche in varie direzioni, la mia muscolatura in varie direzioni, la mia schiena vedete si allunga, lavoro con le braccia, tiro, sento il mio corpo, non dovete perdere la connessione con il vostro corpo, questa è la cosa più importante, allenare il corpo ma come? Pensando e cercando di capire che siamo un tutt'uno che quando tiro una parte tiro anche l'altra quindi devo saperlo controllare e ora vedete fletto stendo, fletto stendo in questo modo alterno le gambe e tiro su tutte e due le gambe quindi lavoro gli addominali e apro e ognuno di voi aprirà in maniera diversa c'è chi arriverà subito giù, c'è chi invece dovrà insistere ma non vi spaventate perché questo è un lavoro in cui è così, dovete insistere, dovete provare, dovete riprovare, fate un progresso e poi ritornate come prima e poi arrivate un progresso e andate più avanti quindi assolutamente costanza, vogliamo costruire il nostro corpo vogliamo essere danzatori in maniera cosciente non così a caso, soltanto perché magari la natura ci ha dotato di qualcosa non serve a niente, dobbiamo costruirci e non mi stancherò mai di dirlo, per quello dobbiamo continuare a lavorare anche nei periodi di inattività della lezione comunque qualcosa va fatta la muscolatura va tirata, la rotazione, l'estensione va coltivata ecco coltiviamo le nostre passioni, i nostri sogni ma dobbiamo impegnarci, questo è chiaro e impegnarci totalmente nella preparazione fisica e anche con la mente e nei nostri studi culturali, artistici e così facciamo una serie di circonduzioni vedete, questo è un esercizio faticoso aprite alla seconda e poi tirate le gambe, tirate, tirate, tirate fa male ma funziona tantissimo mantenete assolutamente questa rotazione il più possibile andate, andate, non cedete, non cedete e poi chiudete a volte ce la si fa, altre volte è così un po' fastidioso che si tende a lasciare le gambe ma mantenetele e qui aprite e chiudete mantenendo la rotazione quindi lavorate anche la muscolatura interna respirate sempre, sentite le piante dei piedi quando venite su e fate una torsione, torcete appunto la schiena naturalmente da una parte riuscite a fare questa torsione di più da un'altra parte di meno e poi finalmente andate alla seconda inizialmente se fate questi esercizi di mattina chiaramente non potete pretendere un'apertura a 180 gradi aprite quanto potete e fate una flessione laterale anche qui ci sarà una parte in cui andrete di più un'altra parte in cui andrete di meno è normale però insistete e poi andate avanti all'inizio chiaramente non si va tanto tanto avanti ripetete sempre laterale sempre ispirando ed espirando e poi laterale dall'altra parte e poi vado avanti ecco qui comincio ad andare un po' più avanti quindi tiro avanti un po' di volte, almeno 4-8 volte potete anche stare di più nella posizione e fatelo con morbidezza piano piano vi sentirete che vi sciogliete ecco però è importante respirare non dovreste alzare diciamo i fianchi un pochino io ho alzato lì dalla parte dove sono un po' più e meno aperta ecco qui che già si va un pochino di più e così voi la stessa cosa dovreste cercare poi facendolo un po' di volte di veramente toccare col petto al pavimento però non importa se non ci riuscite state nella posizione abbandonatevi non cedete con le ginocchia le caviglie in avanti rimanete nella posizione sentite anche la muscolatura posteriore cercate di sentire queste anche dove sono se sono stabili se diciamo nella posizione appunto siete abbastanza forti da appunto fare questa sorta di tiraggio saltello in avanti ecco quindi lavorare bene dietro il bacino e cercare di venire in avanti quanto è possibile cercare veramente di essere dentro alla posizione e dovete sentirvi man mano ecco spingetevi da dietro cercate di veramente entrare in questa seconda affinché veramente sia vostra ecco non sia soltanto una cosa raggiunta un momento ma sia solida e poi dopo che avete fatto questo è sempre bene voi lo sapete fare il movimento opposto mi sono aperta e devo far rientrare le anche cioè devo far sì che le anche abbiano questa mobilità apertura e chiusura non solo in apertura non solo in chiusura già mai solo in chiusura ma non neanche solo in apertura perché sennò vi indebolite devono essere anche attive anche pronte ad ogni movimento anche per danzare quindi mobili mobili ma nello stesso tempo forti il nostro video finisce qui ricordati di far questi allineamenti con costanza se possibile tutti i giorni in questo modo riuscirai a non perdere tutto il lavoro ottenuto durante l'anno e a ricominciare la prossima stagione in forma e quindi potrai andare sempre più avanti se però le nostre lezioni ti sono piaciute ti consiglio di andare a visitare Danza Online Ballet Text trovi qua sotto il link e lì troverai tantissime lezioni da cominciare dai bambini propedeutica adolescenti principianti avanzati professionisti adulti insomma una piattaforma dove ci sono tantissime lezioni che potrai sicuramente sfruttare al meglio sia che tu sia un amatore un danzatore o un insegnante se il video ti è piaciuto questo video ti è piaciuto o altri video del nostro canale YouTube ti piacciono mi raccomando ricordati di cliccare su mi piace di iscriverti e di azionare la campanella in questo modo rimarrai sempre aggiornato su tutto il materiale audio video che settimanalmente pubblichiamo ricordati quindi di allenarti anche durante questa breve pausa estiva ma mi raccomando goditi la vita e divertiti anche è importante è importante anche per la tua danza mi raccomando cerca di immergerti nella natura fare dei bei bagni fare delle belle passeggiate riposarti perché la danza è vita e l'estate viene una volta l'anno ciao a presto buon divertimento ciao 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 ciao